Nella notte, tra mercoledì e giovedì, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco contro l'auto di Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla. La macchina si trova sotto casa dell'allenatore a Meledugno, in provincia di Lecce. I colpi hanno raggiunto l'auto sull'unotto, posto errore, indagheranno ora i carabinieri. Calabro, 47 anni, allena la squadra poiesse da luglio del 2022. Da ambienti vicino alla società poiesse si esclude che si tratta di un episodio legato alla sua esperienza calcistica alla Virtus. Formazione che sabato sfiderà in esterna l'Avellino. Sarà una gara tra bomber al Patelombari. Da un lato c'è Cosimo Padierno, tra i marcatori più prolifici del calcio italiano. L'attaccante Bitontino figura nella speciale classifica stilata da Transfer Market e dei bomber di serie A, B e C, che hanno realizzato il maggior numero di reti nel scorso anno. Dopo Brunori del Palermo, Immobile della Lazio e Ferrari delle Vicenza spicca il nome della punta classe 1991, attualmente in forza alla Virtus Francavilla. In questa stagione ha già realizzato 16 reti in 27 presenze. Sul versante opposto c'è Michele Marconi, attaccante, arrivato al gennaio dal Sudron in Irpinia. Dopo la doppietta segnata con il Potenza, va a caccia del primo gol in casa con la maglia bianco-verde. I due piromani dell'attacco pugliese-irpino sono pronti a far fuoco nel match di sabato pomeriggio. I due piromani dell'attacco, va a caccia del primo gol in casa con la maglia bianco-verde. I due piromani dell'attacco, va a caccia del primo gol in casa con la maglia bianco-verde.